L'aspetto più importante è che noi abbiamo ottenuto in pochi mesi di governo Meloni cose che da anni venivano regolarmente respinte. Grazie al lavoro dei nostri parlamentari, ringrazio il relatore Sigismondi, tutti gli altri parlamentari che hanno contribuito ad arricchire il testo del decreto legge iniziale, il commissario Guido Castelli che ha fatto un gran lavoro e il ministro Musumeci con il quale mi sono relazionato anche per superare alcuni degli ultimi ostacoli, in particolare la questione definitiva del superamento della questione delle lievi di formità edilizie che ha costretto interi comuni ad avere ancora le zone rosse dopo molti anni nei loro centri storici, inserendo anche le lettere B nell'elenco degli edifici in cui è ammessa questa possibilità nei comuni fuori cratere. La equiparazione tra fuori cratere e cratere sismico per tutte le fatti specie, anche per le procedure, superando una discriminazione io reputo addirittura incostituzionale, perché i cittadini che hanno subito di fatto il medesimo danno sono stati fino ad oggi trattati in maniera diversa tra di loro, con diverse procedure, diverso tipo di contributo, diverse ammissibilità di spese che era assolutamente intollerabile. La stabilizzazione del personale, qua ce ne sono dentro questo ufficio oltre 20, quasi un centinaio compresi i comuni e gli altri enti che hanno personale, solo per parlare della regione Abruzzo e del sisma Italia Centrale, anche qui erano anni che affrontavamo questa questione, ogni anno questo personale doveva vivere tra Natale e Capodanno la tragedia di non sapere se nel mille proroghe o in qualunque altro provvedimento ci sarebbe stata una proroga che poi veniva a volte, come era anche accaduto di recente, respinta per ragioni di contrasto con normative europee o con la legge, con il decreto dignità. E quindi abbiamo finalmente avuto un governo che ha avuto il coraggio di riconoscere che quando una struttura dura non uno, due o tre anni, ma cinque, otto, dieci, quindici anni, perché il lavoro di ricostruzione è molto lungo, c'è bisogno di personale che abbia garanzie professionali, garanzie occupazionali, che si possa contare sulla loro professionalità, che si eviti anche il pericolo, ed è successo molte volte che persone che hanno ormai piena capacità di lavorare su questa disciplina molto specialistica della ricostruzione vadano a finire altrove perché magari vincono un concorso e hanno altre opportunità lavorative. Altro elemento molto importante sulle scuole, anche qui erano anni che presentavamo emendamenti per chiedere che nei comuni colpiti dal sisma venisse sospeso le restrizioni del dimensionamento scolastico, permettendo quindi non soltanto di ricostruire le scuole ma anche poi di tenerle aperte, perché il paradosso di molti comuni era che si ricostruivano scuole che però poi dopo, secondo i regolamenti del Ministero dell'Istruzione, dovevano essere chiuse perché non avevano sufficiente popolazione e magari era calata la popolazione perché nel frattempo con il sisma si sta in una condizione di spopolamento o comunque di alloggi provvisori in altri comuni. Insomma io credo che sia stata una grande dimostrazione di serietà, di concretezza, di capacità di governo. Finalmente abbiamo un commissario di governo che viene rispettato dal governo che lo nomina, dalla maggioranza che lo esprime, che si è fidata dei territori come io ho richiesto quando sono andato al Senato a fare un'audizione in cui ho chiesto esattamente questo, di smetterla di considerare a volte impuntature di oscuri funzionari ministeriali che hanno tenuto ferme tutta una serie di vicende, ne sto dimenticando tante altre che sono comunque presenti nella nostra ricostruzione, nella cartellina tecnica. Io devo ringraziare anche in particolare il Dottor Rivera e tutto il suo staff perché buona parte di questi emendamenti sono stati scritti dalla loro penna, dalla loro esperienza, dalla nostra esperienza, sono transitati attraverso il mio ufficio di supporto legislativo, la mia segreteria particolare, in particolare il Dottor Casalena, nel costante contatto con gli uffici legislativi dei ministeri e dei gruppi parlamentari con i quali ci relazioniamo. È stato un grande gioco di squadra e finalmente c'è un territorio che viene ascoltato dal governo e dalla maggioranza parlamentare.